Musica Bentornati all'Useo Archeologico Nazionale delle Marche che riapre oggi martedì 9 giugno 2020 dopo il lockdown Alcune semplici istruzioni per visitare il museo in questo periodo Per entrare al museo archeologico occorre indossare la mascherina che è indispensabile Successivamente si deve misurare la temperatura che deve essere inferiore ai 37 gradi e mezzo Questa operazione verrà effettuata da un operatore del museo Poi ci si può avvicinare alla biglietteria, sanificare le mani con il gel apposito che lì si trova e fare il biglietto L'orario d'apertura del museo è un po' modificato in questo periodo Il lunedì rimane il giorno di chiusura Ma dal martedì fino al giovedì il museo è visitabile solo la mattina Dalle 8.30 alle 13.30 E bisogna fare attenzione perché il biglietto si può comprare solo fino a 45 minuti prima della chiusura del museo Invece dal venerdì fino alla domenica il museo sarà aperto solo al pomeriggio Dalle 14.00 fino alle 19.30 E anche in questo caso la biglietteria chiuderà 45 minuti prima del museo Non tutte le sale del museo sono accessibili in questo periodo Il percorso di visita comincia al terzo piano con la sezione Picena Ma si può chiedere di visitare anche la sala della Venere di Frassassi all'esamino I piani superiori possono essere raggiunti attraverso lo scalone bambinitelliano Oppure facendo le richieste al personale e avvisando sempre il personale del museo Coloro che ne abbiano necessità e disabili possono usare l'ascensore Il percorso al terzo piano comincia dal salone delle feste Dove sono ammessi 5 visitatori alla volta Che devono però stare importanti a mantenere le distanze in sicurezza Dal salone centrale si può accendere alla sala adiacente Un visitatore alla volta Dove è esposta l'olio corpoli materica da Pitino di San Severino L'entrata nel salone centrale si può diffluire verso l'uscita del piano Passando attraverso le salette adiacenti Che consentono la presenza di due suoi visitatori alla volta Vedere la bellissima ambra configurata a Leone Leonessa Che viene da Belmonte Piceno E poi raggiungere l'uscita al piano sullo scalone bambinitelliano Il percorso al primo piano comincia dalla sala Che espone i corredi di Tarca e Aica che vengono da Anumana Sirolo Da questa sala dove possono sostare solo due visitatori alla volta A debita distanza Si accede attraverso una saletta che è di passaggio Al grande salone centrale Con i corredi sempre da Anumana Sirolo Da questa grande sala dove possono stare quattro visitatori alla volta Si diffluisce lungo il corridoio Nel corridoio si può ammirare Non più due persone alla volta contemporaneamente Il ferro e il fruttore di Civitabba E percorrendo ancora il corridoio Si può accedere sempre attraverso il corridoio Alla sala che espone gli oli da Montefortino di Arcella E da qui si può passare alle grandi sale Che vengono i reperti dall'agropoli di Vistico Romana di Ancona Questa volta i visitatori possono nuovamente salire a quattro Contemporaneamente Grazie a tutti La visita è terminata con l'uscita attraverso il grande cancello Vi ringraziamo e ci auguriamo di venire di presto